Sarà probabilmente la Casa Albergo per Anziani di Contrada Perriera a Sciacca la struttura destinata ad accogliere il secondo grande centro di vaccinazione anti-covid della provincia di Agrigento. È sfumata l'ipotesi di poter utilizzare il Grandotelle delle Terme così come aveva proposto il sindaco Francesca Valenti perché i tempi per rendere agibile a tale scopo la struttura sarebbero stati lunghi, almeno un paio di mesi. E invece l'obiettivo della regione è quello di arrivare ad avere altri 20 centri di vaccinazione nell'isola oltre ai 9 hub provinciali già attivi entro una quindicina di giorni. Ieri a Sciacca sono arrivati i responsabili della protezione civile regionale ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale per un sopralluogo nelle strutture che avrebbero potuto ospitare il secondo hub del territorio agrigentino. Esclusa l'ipotesi del Grandotelle, l'attenzione si è incentrata sulla Casa Albergo per Anziani che era stata proposta dal Circolo Territoriale di Fratelli d'Italia già da tempo. Una soluzione che consentirebbe al versante occidentale della provincia di avere quel grande centro di vaccinazione necessario per quando si entrerà nel vivo della campagna di vaccinazione di massa, evitando di doversi recare esclusivamente ad Agrigento. Il commissario dell'Asp, Mario Zappia, da noi contattato, ha confermato che si sta puntando sulla Casa Albergo per Anziani di Contrada Perriera a Sciacca, così come si stanno programmando, ha detto, ulteriori sopralluoghi nei distretti sociosanitari per incrementare i punti di vaccinazione attualmente attivi in provincia. Al momento l'ostacolo è quello delle dosi effettivamente disponibili, ma dobbiamo farci trovare pronti per quando saremo in grado di vaccinare a ritmi sostenuti, ha dichiarato Zappia, sulla base delle stesse indicazioni pervenute dal Governo regionale. Il Presidente Musumeci, infatti, insieme al dirigente dell'Assessorato alla Salute, Mario Larrocca, ha delineato il piano per il prossimo mese di maggio con una media di somministrazioni che le nuove aziende sanitarie dovranno rispettare. 4.400 quelle che dovranno essere garantite in provincia di Agrigento. Al momento siamo lontanissimi se si considera che, anche al lab del Palacongressi, quello dove è concentrato il massimo dello sforzo, siamo a 600 dosi di Pfizer e 300 di AstraZeneca al giorno.